domani sera mixer documenti faccia a faccia esclusivo di giovanni minoli con harry kissinger ex segretario di stato americano intervistato durante le giornate internazionali del centro pio manzù la guerra del golfo la riunificazione delle germanie lo spettro del nazismo il nuovo ruolo dell'urs la pax americana in medio oriente i temi più scottanti della politica mondiale analizzati da uno dei più famosi opinionisti del mondo il caso del giudice clarence thomas e anita hill al di là della sentenza l'inquietante realtà del ricatto e delle molestie sessuali sul posto di lavoro donne maltrattate e violentate tra le pareti domestiche in esclusiva mixer le disperate confessioni di donne recluse nel carcere di marysville ohio imputazione omicidio volontario le vittime i loro mariti sentenza finale libertà l'america si spacca omicidio o legittima difesa mixer documenti domani sera alle 22 15 rai 2 va ora in onda un tela film della serie il brivido dell'imprevisto dal titolo non si può avere tutto vi ricordo inoltre alle 22 30 missione report vi ricordo inoltre all'imprevisto dal titolo non si può avere tutto ciò che 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 non si può avere tutto ci